Ben trovati con l'informazione a cura di Meteocalabria.net. La settimana entrante dovrebbe mostrare il volto perturbato della primavera, con pioggia diffusa e temperature in calo. Lunedì 20, cielo chiuso sulla Calabria, centro-settentrionale, con possibili piogge deboli o moderate a più riprese, variabile sulla bassa Calabria. 20 moderati di scirocco, con rinforzi nell'area dello stretto di Mesina e sul litorale tirrenico in genere, tendenti poi a disporsi da Levante e dal tardo pomeriggio. In conseguenza di ciò, ci attendiamo un'accentuazione del modo ondoso. Difatti il medio-alto tirreno dovrebbe divenire mosso, così come il basso Ionio, poco mossi i restanti i vaccini. Temperature in calo nel corso della giornata. Tempo perturbato per martedì 21 aprile. Probabili piogge più insistenti sul versante Ionico, in successiva estensione anche al resto del territorio regionale. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.